Quali i numeri di quest'anno? Quest'anno ci attendiamo circa un migliaio di atleti che parteciperanno alla nostra edizione e grazie anche al fatto che abbiamo una novità rispetto agli altri anni perché abbiamo introdotto una nuova manifestazione che è la staffetta cioè potranno partecipare squadre solo di donne, solo di uomini o anche miste e ognuno delle quali composte da tre atleti ogni atleta farà un giro nel percorso della mezza e vincerà ovviamente la squadra che avrà percorso la somma dei tempi inferiore rispetto alle altre Premieremo all'interno della staffetta sia la staffetta femminile che maschile che mista quindi avremo 27 premiati C'è una novità anche in merito al percorso, non sarà più anti-orario ma orario, cosa significa? Sì, abbiamo deciso quest'anno di fare un cambiamento, di fare il percorso orario perché il percorso orario permetterà agli atleti di correre guardando Portofino guardando il mare invece che avere il mare alle spalle e quindi speriamo che questa sia una novità che possa essere da loro gradita Il cuore della manifestazione sarà la mezza maratona di 21 km ma torna anche la Family Run Sì, torna la Family Run e devo dire che quest'anno abbiamo un'esplosione di iscritti alla Family Run perché abbiamo un sacco di persone che ci stanno contattando diciamo di solito partivamo con meno iscritti giorni prima della mezza maratona ne facevamo molti il giorno della gara invece questa volta arriviamo già con un grosso parco di iscritti iniziale Quasi un migliaio di atleti dicevamo, da dove arriva il più lontano? Il più lontano è un ragazzo russo che ci ha contattato un po' di tempo fa e che lo abbiamo anche tesserato con la nostra società quindi siamo anche molto contenti di questo Un appuntamento molto atteso che richiede comunque un'organizzazione molto intensa grazie a chi è possibile organizzare questo? Allora, grazie innanzitutto all'aiuto di tutti gli amici che ci stanno dando una mano diciamo a noi del direttivo ma soprattutto a livello fondamentale diciamo è l'appoggio di Ascom Chiaveri di Camera di Commercio Genova Sono ancora aperte le iscrizioni, si chiudono pochi minuti prima dell'avvio dove vi troviamo domani? Domani saremo presenti al villaggio Gara che sarebbe la zona di arrivo poi della gara quindi in piazza Gagliardo e dove consegneremo i pettorali dalle 11 del mattino fino alle 19 e in quello stesso arco di tempo si potranno fare le iscrizioni sia alla Family Run che alle altre due manifestazioni